E adesso un semplice messaggio che riguarda Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Ne parliamo anche perché anche se la coppia non è nata in ambito uomini e donne, come non ricordare il bellissimo trono di Francesco Monte e Teresanna Pugliese? Mi verrebbe da dire come non ricordarlo proprio ora che troni così, belli non se ne vedono da un pezzo. In ogni modo dopo la fine della storia con Teresanna, Francesco si fidanzò quasi subito con Cecilia Rodriguez e questo anno a maggio fidanzeranno tre anni di fidanzamento tondi tondi. Ma questa volta si festeggia un'altra cosa? Infatti Cecilia Rodriguez ha appena compiuto i suoi 26 anni e Francesco Monte da Instagram le scrive. Con una delle nostre prime foto ti faccio gli auguri di buon compleanno gordita mia, oggi come, tre anni fa sono con te vicino a te. Noi due insieme. Te amo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.